Tamponi e vaccini anti-covid ai rifugiati dall'Ucraina. Da questa mattina è attivo nella città di Salerno uno spazio dedicato presso la sede dell'USCA di via Capitolo San Matteo nella zona industriale per consentire di effettuare test diagnostici ai profughi ucraini consentendo l'eventuale rilascio della certificazione verde. Tamponi antigenici da questa mattina alle prime persone che hanno raggiunto autonomamente la struttura dell'asla di Salerno che da oggi dedica uno spazio ai tracciamenti e alle registrazioni al servizio sanitario degli stranieri in temporanea permanenza che permetterà loro di avere assegnato il medico di medicina generale e o il pediatra. Una postazione dedicata dove questa mattina è già risultato un primo caso di positività al covid di una donna che sarà gestito presso il domicilio di ospitalità o nel caso si renda necessario presso strutture in fase di individuazione. Con il personale dell'asla di Salerno, i sanitari della Croce Rossa, i volontari, alcuni mediatori culturali, stamani sul posto anche il responsabile dell'area covid dell'asla di Salerno, il dottor Arcangelo Sagge Setozzi, che ai nostri microfoni ha chiarito anche l'importanza della comunicazione nei confronti dei profughi. Il tasso dei vaccinati in Ucraina è solo del 35%, una delle percentuali più basse d'Europa. Molti di loro non sono vaccinati e bisognerà svolgere un ruolo fondamentale per offrire loro la vaccinazione. Qui noi faremo un primo passaggio con i profughi che arriveranno, che stanno arrivando, stanno arrivando qui, stanno arrivando anche nelle altre strutture dell'asla sparse su tutto il territorio. Le persone che arrivano faranno una prima operazione, quella dell'iscrizione nel sistema STP, cioè l'anagrave vaccinale per le persone, per gli stranieri. Una volta iscritti nel sistema STP le persone saranno sottoposte a tampone, si verificherà se sono positivi, se sono negativi, a secondo dei casi si gestiranno come si gestiscono gli italiani sotto questo aspetto. Se sono positivi staranno in isolamento per i giorni necessari, se sono piccoli numeri, se sono accompagnati da familiare e c'è questa possibilità saranno isolati presso le strutture familiari, se sono grandi numeri troveremo strutture dedicate in cui far fare l'isolamento. Successivamente proporremo a tutte queste persone la vaccinazione, poiché è una popolazione che non ha una grande copertura vaccinale, si parla del 35-36% con vaccini di prime dosi, con vaccini anche non tutti riconosciuti da lei, ma non è un problema, considereremo la prima dose come un possibile contagio e faremo le seconde e le terze dosi appena questo sarà possibile. Dottore, non sarà facile convincerli, abbiamo notato che questa mattina tra le prime persone che sono state registrate alcune sembrano abbastanza convinte di non volere essere vaccinate, ci sono anche i mediatori perché c'è bisogno anche di una mano, di un supporto psicologico? Certamente non sarà facile perché diciamo che queste sono popolazioni che hanno una certa resistenza alla logica vaccinale, a volte anche per difficoltà, non c'è una grande copertura nemmeno nei vaccini tradizionali, esavalenti. Anche questi vaccini noi offriremo man mano ai bambini, a queste donne che arrivano qui da noi. L'Urso ha la possibilità di avere mediatori culturali che ci aiutano a far capire, a far intendere, a far convincere queste persone sarà sicuramente fondamentale. Qui i primi tracciamenti, ma arriveranno altre persone, ci si aspetta dei flussi un attimino con numeri più alti. Ovviamente l'Asra dovrà monitorare passo passo queste persone che sono sul territorio salernità. Volendo fare una proiezione, noi abbiamo in provincia di Salerno circa 8 mila ucraini abitualmente residenti, se ognuno di loro diventa un attrattore per familiari, per parenti, per conoscenti, li potremmo moltiplicare questi 8 mila per 5, 6, 7, diciamo che dovremmo girare su 70, 80 mila persone. Sono numeri importanti che ci dicono che dovremmo stare vicino, dobbiamo stare vicino, ma sono numeri gestibili, poi non sono numeri così enormi da non gestire e dobbiamo essere capaci di far capire, a partire con l'aiuto degli ospitanti che abbiamo convinto in questi anni, a fargli capire che l'ospitalità italiana è fondamentale, importante, ma ha delle regole che ci servono e bisogna rispettarle.